Le mitiche ciclabiche della Valle Tena, ricordatevi perché potrete tornare in Valle Tena. Passare alla remota vice, vediamo quattro anni, se questi sono i ragazzi, i nostri staff che vi accompagneranno, sia sulle piste da sci, sia di vacanza. Grazie a tutti. 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 Buon latone ancora di tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.